Vendevano abiti da sposa utilizzando società fittizie. I militari della Guardia di Finanza di Molfetta hanno scoperto una maxifrode fiscale da 8 milioni di euro. A finire nel mirino dei finanzieri 5 imprese di cui 4 a Molfetta e una in provincia di Torino, altre tante persone. Dalle indagini condotte attraverso l'esame della documentazione contabile ed extracontabile è emerso che dal 2012 al 2016 due delle ditte coinvolte emettevano fatture false per la vendita dei abiti da sposa. Prive di mezzi, strutture e lavoratori si sono rivelate vere e proprie cartiere create al solo scopo di emettere fatture per operazioni commerciali in realtà mai avvenute. Le indagini hanno così permesso di constatare un'evasione fiscale da 8 milioni di euro ed una evasione all'IVA di oltre 2 milioni di euro. 5 le persone coinvolte a vario titolo nell'intera vicenda, tutte sono state denunciate all'autorità giudiziaria.